Saranno presenti dentro al secondo pacco anche la guida di scorrimento del pannello già assemblata, comprensiva degli ammortizzatori e il profilo di tamponamento verticale, che servirà a chiudere il vano che rimane aperto nella parte dell'incontro ad elle, che arriverà senza finitura e sarà quindi da verniciare in cantiere. Si dovranno inserire nelle apposite sedi le guarnizioni bianche di battuta fornite in dotazione. Altri elementi che troveremo dentro all'imballo saranno due guarnizioni, una bianca e una nera, il fermo ammortizzatore da posizionarsi sulla guida, il kit direzionale di base e due spessori, uno spezzone in nylon e uno in PVC, che però servono soltanto per il montaggio e non faranno parte della composizione finale della porta.